L'ippodromo di Vinovo è pronto per vivere una seconda parte del 2021 all'insegna dei grandi eventi. La riunione del 5 settembre sarà storica innanzitutto perché tornerà il Gran Premio Avvocato Carlo Marangoni, la classica per i trottatori di tre anni che da sempre è ideale trampolino verso il derby romano. Ma soprattutto nella prima domenica di settembre l'impianto torinese festeggerà i suoi primi 60 anni di attività. La giornata ad ingresso gratuito e con Green Pass sarà accompagnata da numerose iniziative per adulti e bambini. Il programma dettagliato è stato presentato in una conferenza stampa a Palazzo Cisterna, la sede aulica della città metropolitana di Torino, che ha concesso il suo patrocinio alle celebrazioni per i 60 anni dell'ippodromo. Dal 5 settembre, tra l'altro, in occasione di tutte le giornate di corsa, sarà possibile aderire alla raccolta benefica organizzata da Ippogroup Torinese e delle categorie Ippiche per raccogliere fondi destinati all'acquisto di apparecchiature elettromedicali per il reparto di onco-omatologia pediatrica dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Silvano Ferraris, direttore dell'Ippodromo di Vinovo, una grande riunione Ippica il 5 settembre, ma l'invito ai torinesi a venire a scoprire questo mondo dell'Ippica. Sì, buongiorno a tutti. L'invito è a tutti i torinesi, a tutte le famiglie torinesi, a scoprire il mondo dell'Ippodromo di Vinovo, che non è fatto soltanto di corsa in pista, di corsa al trotto, ma è fatto di tanti altri eventi collaterali, proprio dedicate ai bambini e dedicate alle famiglie. In particolare, questa domenica 5 settembre, ma poi anche per le altre domeniche del mese, ci saranno sempre delle iniziative gratuite legate soprattutto all'attività dei bambini. Questa domenica, il 5 settembre, che fra l'altro coincide con un compleanno importante per noi dell'Ippodromo, per i 60 anni dell'Ippodromo di Vinovo, i bambini avranno a disposizione dei poni gratuiti per avere il battesimo della sella, potranno fare una caccia al tesoro con i ragazzi di Circo Wow a tema cavallo, quindi si impareranno tante curiosità sul mondo dei cavalli. Ci saranno poi uno spettacolo equestre particolare, devo dire particolare, non svelo niente di più, ma dico ai torinesi di venirci a vedere. Poi ad esempio avremo la curiosità di vedere un maniscalco che ti fa un ferro di cavallo davanti agli occhi, che è una cosa che ormai quasi non si può vedere più in giro. Dal punto di vista tecnico ricordiamo invece l'importanza di questo appuntamento del 5 settembre. A che livello siamo di competizioni? Siamo a un livello di competizione nazionale in modo assoluto e direi anche internazionale, perché uno dei cavalli favoriti del Gran Premio Avvocato Carlo Marangoni, che si disputa appunto il 5 settembre, è un cavallo di proprietà e di allenamento francese. Si chiama Colmite Brise, è guidato invece dall'italianissimo e nostro Andrea Guzzinati, parte con i favori del pronostico per vincere appunto questa corsa storica per Torino, che è il Gran Premio Avvocato Carlo Marangoni, che nel suo albodoro ha a Fior di Campioni, primo fra tutti il mitico e il grande Varen. Quindi una gara, una corsa di cavalli che dà a Montepremio al traguardo più di 150.000 euro di assoluto valore italiano.